Questa mattina sono stati presentati all'interno della Sala Stampa Vaticana una serie di eventi che la Basilica di San Pietro e la Fabbrica con il capitolo porteranno avanti nei prossimi giorni, nei prossimi mesi. Una iniziativa che il Cardinale Mauro Gambetti ha portato avanti è quella di proiettare sulla facciata di questa Basilica la vita di San Pietro, peraltro con la voce di un attore ovviamente famoso che racconta la vita di San Pietro. Due ore di proiezione che partiranno ad ottobre. Ora quello che ci si domanda è se a febbraio del 2021 ciò che Francesco aveva chiesto a Mauro Gambetti, questo francescano che Francesco aveva incontrato ad Assisi e Gambetti era riuscito a convincere Francesco con questa benedetta fondazione Fratelli Tutti a farsi portare ovviamente in Vaticano. Gambetti è arrivato al posto di Angelo Comastri, con Gambetti è cambiata tutta una serie di cose all'interno della Basilica che noi abbiamo raccontato punto per punto su Silere non Possum. Questa mattina durante la conferenza stampa tenuta all'interno della sala stampa diversi giornalisti avevano l'opportunità di chiedere conto al Cardinale Gambetti di che cosa sta avvenendo all'interno della Basilica Vaticana. Ora è chiaro, lo sanno benissimo anche i giornalisti visto che spulciano il sito più che mai, che ciò che racconta Silere non Possum è provato. Ogni volta che Silere non Possum pubblica un articolo significa che ha una serie di documentazione alta così per poter pubblicare, non pubblica di certo le chiacchiere di paese o le chiacchiere che i monsignori confidano ai giornalisti anche del fatto quotidiano, magari le chiacchiere che si dicono così a Borgopio, buttateli così. Non facciamo questo, pubblichiamo cose serie, problematiche serie e non di certo se il papa porta una mitria o ne porta un'altra o se porta le scarpe rosse o un'altra. Si trattano argomenti molto importanti, ovvero la reggenza di questo stato e della chiesa cattolica, leggermente più importanti del fatto che magari appunto il papa ha le scarpe rosse oppure no. In tutto questo maraso nessun giornalista ha avuto il coraggio di chiedere a Mauro Gambetti che cosa sta avvenendo all'interno della Basilica Vaticana. Non arriverà ad ottobre Orazio Pepe che è ovviamente lo scalino più basso rispetto a Gambetti e ovviamente sull'altare dell'ipocrisia viene sacrificato, come direbbe Francesco. Questo immolare le persone sull'altare Francesco ce l'ha ben chiaro e in questi giorni sono arrivate diverse lettere sia da Santa Marta sia dalla segreteria di stato che chiedevano conto a Mauro Gambetti di una gestione che non funziona. Su Silere non posso ma ad esempio potete leggere che il 4 settembre durante la beatificazione di Giovanni Paolo I c'era il sagrato della Basilica completamente sporco, escrementi di uccelli e altre cose che ovviamente hanno sporcato la Basilica. Ha salvato un po' la pioggia ma ovviamente la situazione era un degrado. Monsignor Leonardo Sapienza che da anni serve da Santa Sede con dedizione lo stato della città del Vaticano, il papa, ovviamente ha fatto una scenata dove faceva presente questa cosa. Peraltro si è lamentato anche il nuovo sostituto della segreteria di stato, nuovo anche più di tanto, ovvero Monsignor Pegna Parra. Al papa è andato direttamente Sapienza, ha fatto presente queste cose e ha detto chiaramente che questa gestione non può funzionare. Un altro prelato che si è lamentato in più occasioni è Monsignor Rino Fisichella, anche lui ha servito il Pontificio Consiglio per l'Evangelizzazione per un sacco di tempo, ora si deve occupare di un incarico molto importante che sta svolgendo egregiamente che è quello dell'organizzazione del Giubileo. Purtroppo con questa gestione non si può arrivare ovviamente a celebrare un evento come quello del Giubileo. Le problematiche sono moltissime, Gambetti ha assunto amici, persone che ad Assisi aveva nei suoi uffici e che peraltro ora alcuni frati ci hanno riferito che hanno creato una serie di problemi anche ad Assisi. Il problema è che questa non è la Basilica di Assisi, per quanto la Basilica di Assisi possa essere importante, soprattutto c'è un valore affettivo da parte della cristianità perché conserva le spoglie di quel santo francescano che Gambetti dovrebbe seguire ma in realtà non segue, perché negli anni passati Gambetti criticava tantissimo alcuni predati, soprattutto cardinali, che ancora oggi non hanno capito come venivano presi in giro, ma va bene, e dicevano che questa ricchezza non va assolutamente bene. Eppure Gambetti ha abbandonato il saio francescano, non sa più dov'è, proprio non sa più dov'è, non esiste più. La talare cardinalizia la utilizza soprattutto la domenica in Basilica, ma poi ama questo clergyman di tessuto molto buono, queste croci pettorali molto valide, airpods abbastanza costose. San Francesco che cosa avrebbe detto di tutto questo? Ecco, tutte queste domande forse le avrebbero dovute porre i giornalisti, giornalisti che invece sono succubi di una sala stampa che sostanzialmente dice questo, se tu fai un qualcosa leggermente in più di ciò che ti è richiesto, ovvero semplicemente di descrivere ciò che sta accadendo, io ti revoco l'accreditamento presso la sala stampa. Quindi da una parte c'è la sala stampa che minaccia velatamente la revoca dell'accreditamento, dall'altra ci sono dei giornalisti che invece su questo si adagiano e non vogliono raccontare determinate cose, perché prima era molto bello sparare sulla croce rossa e iniziare a dire cose peraltro non vere. Quindi anche questi pseudo giornalisti, perché in realtà sono anche millantatori, in realtà non sono giornalisti, ma millantano di essere giornalisti che scrivono su questi giornaletti scandalistici che in realtà la gestione precedente era opaca, la gestione precedente non è mai stata opaca, è stata trasparentissima, addirittura grazie alla gestione precedente si è potuta affrontare una questione particolarmente importante come la pandemia da Covid-19 che ha messo in ginocchio le finanze anche di questo Stato. Certo, chi in questo Stato non ci vive non può raccontare la realtà dei fatti, ma può raccontare soltanto la versione di qualcuno. Quelle famose parole di Francesco, i partigiani, la partigianeria, questa è partigianeria. Oggi è pieno e Francesco si è peraltro circondato di questo cerchio magico di partigiani, partigiani che non hanno capito che all'occorrenza voleranno anche loro, un treno carico carico che porterà ovviamente ad una sola andata che fino a quando gli fa comodo stanno lì e sparano sulle gestioni precedenti perché nel momento in cui io non ho motivi per vantarmi, cioè non ho le qualità per vantarmi, devo ovviamente buttare quelli precedenti sotto e dire beh, loro erano peggio di me. Io comunque sono migliore. Ciò che è stato presentato questa mattina è la dimostrazione che in un anno e mezzo Mauro Gambetti non ha fatto altro che assumere amici, portarli in casa, portare telecamere all'interno della basilica per ovviamente dare visibilità, fare entrare soldi, tutte cose che non hanno nulla a vedere con un altro aspetto che è la parrocchia di San Pietro. Papa Francesco aveva presentato questa realtà, adesso c'è anche questo parroco che piuttosto che curarsi delle anime, questo fragnello, si occupa molto di apparire e molte persone lamentano che determinate cose finiscono sempre su questi social network e quindi questa mattina diceva non tutti sanno che c'è la parrocchia di San Pietro eccetera, non tutti lo sanno perché evidentemente la parrocchia di San Pietro non c'è, è una delle tante cose che viene propinata. La parrocchia di Sant'Anna fa una vera e propria accoglienza ed è veramente una parrocchia di periferia come direbbe Francesco perché è proprio alla periferia di questo stato, la gente entra, si confessa, i tempi d'oro in cui c'era Monsignor Guido Marini che confessava le persone, ma ora non si può dire questo di San Pietro anche perché quali sono le attività che Franiello fa come parroco? Franiello sa cos'è un parroco? Peraltro ci sarebbe anche da discutere tutta una serie di cose sul fatto che il religioso fare il parroco non è proprio la sua vocazione.